In occasione dei cento anni di mio padre, il 7 di giugno scorso, abbiamo organizzato una conferenza con l'editore Rubettino e il sindaco di Soveria Marnelli, il presidente del centro del libro del Ministero della Cultura, Marino Siribaldi, per ricordare, per evidenziare il valore del libro. Perché il valore del libro significa il valore della memoria e quindi attraverso un lessico familiare abbiamo trasformato quell'occasione per unire memoria privata a necessità sociale, in questi anni così colmi di inquietudini però densissimi di prospettive. Mio padre si chiamava Michele Caligiuri e quando era piccolo non poteva comprarsi i libri per andare a scuola, poi ha studiato da solo ed è diventato collocatore comunale, una professione che non esiste più. Era diventato anche agente della SIAE e in quella veste promuoveva la diffusione delle opere della Treccani. A noi figli, eravamo due, Luigi ed io, ora sono rimasto solo, ha sempre detto una cosa, studiate e insieme a tanti altri libri ci aveva comprato il Dizionario enciclopedico della Treccani e il facsimile dell'Actanzi Firmiani Opera, il primo libro ho stampato in Italia nel monastero Benedettino di Subiaco nel 1465. Come Luigi non ho famiglia e figli e nella nostra casa di Soveria Mannelli abbiamo creato, insieme a mio cugino e il senatore Battista Caligiuri, che ha inventato e progettato una struttura architettonica e scenografica talmente essenziale da risultare elegante e di grande impatto, abbiamo creato una biblioteca di oltre 25.000 volumi che porta il nome di papà, inaugurata l'11 luglio del 2015 da Vittorio Sgarbi, che ha sempre avuto il culto dei genitori e che è stata benedetta dal vescovo emerito di la Vesia Terme, Vincenzo Rimedio, che aveva ufficiato le esequie di mio padre. E la testimonianza alla città, la mia testimonianza alla città, che mi ha visto nel 1985 quale sindaco più giovane d'Italia, e quindi una testimonianza alla Calabria, dove da assessore regionale alla cultura dal 2010 al 2014 ho promosso la lettura come fondamento di ogni cambiamento e anche promuovendo una serie di iniziative che hanno avuto impatto anche nel medio periodo, come potrebbe dimostrare l'individuazione di Dibbo Valencia, capitale del libro italiano nel 2021. La biblioteca Michele Caligiuri come sua missione intende promuovere la lettura come dovere civile in una regione che potrebbe riscattarsi attraverso la cultura. Certo, non è un problema all'ordine del giorno, perché occorre tempo. L'anniversario di oggi può essere quindi utile, l'intervista di oggi è utile per avviare riflessioni sul futuro del sud e del paese, partendo proprio dal libro. Un oggetto che sembra fuori moda nella società dell'algoritmo sovrano, ma che invece può risultare più utile che mai. Quindi con iniziative, con queste interviste che diffondono attività come quelle della promozione della lettura, della cultura e del libro, possiamo porre i semi di una rinascita necessaria per la nostra terra, che per alcuni è una terra perduta, e le ragioni ci sono tutte, però è anche una terra che ha in sé incredibili possibilità di risposta, come diceva Benedetto XVI quando è venuto alla mezza terra.